Oggi 30 maggio 2022 e in questo angolo di paradiso incontro nuovamente un'amica meravigliosa, ciao splendida medusa, come stai creatura di dio, bella più che mai ed è così, la natura ovunque è bella, nel suo habitat, nel suo splendore, quanto sei bella madre terra, madre natura con le tue creature, con sorella acqua, con i suoi giochi di luce quando sposa padre sole, con tutte le sue creature e oggi do l'attenzione all'acqua e al popolo delle acque, al popolo del pesci, di Atlantide, delfini, orche, meduse e tutti i pesciolini e tutto il popolo del mare, oggi mi rivolgo a voi, a tutto il popolo sottomarino, a tutte le creature acquatiche, alle ondine meravigliose che brillano nei mari alle sirene e a tutte le creature come te, come questa medusa meravigliosa e ringrazio il padre che mi rende testimone di tanta bellezza e tanto splendore perché madre terra, con tutte le sue creature, tutte le acque che ricoprono tre quarti del pianeta sono quanto di più bello abbiamo, ma non abbiamo rispettato e non abbiamo amato a sufficienza arriviamo come degli alieni e tiriamo fuori le creature dal loro habitat, dal loro posto, dalla loro casa ce ne nutriamo, li uccidiamo, li violentiamo, li stupriamo, facciamo loro del male senza pietà e io chiedo perdono al popolo del mare anche per questo chiedo perdono ad ogni creatura qui in queste acque e quando mi sono immersa quest'oggi ho pregato e i pesci saltavano e le mie amiche meduse sono arrivate a salutare, innocue e gentili quindi vi lascio salutare queste divinità della natura queste meraviglie, questi prodotti di madre terra e delle acque e vi lascio riflettere su questo se venisse qualcuno dall'alto degli extraterrestri e ci prelevassero noi o i nostri figli dalle nostre case e ci portassero via facendo di noi forse cibo che cosa diremmo? questo è il grande gioco della matrix riflettete, riflettiamo perché anche noi siamo in questa ruota ma noi per primi dobbiamo spezzarla rispettando e amando le creature che ci si presentano e loro rispettano noi come questa creatura che innocuamente si è avvicinata a me senza neppure sfiorarmi vi regalo la visione di questo mare vi benedico e vi amo con infinito amore e così sia e così è Amen Capitamento actor un'ottosamente grazie un'ottosamente grazie